Il gol di Salvatore Caturano Il gol di Salvatore Caturano Il gol di Salvatore Caturano Caturano rete portiere da una parte pallone dall'altra Ecco il traversone Caturano il 3 a 0 Faglia completamente il retropassaggio parlato Ne approfitta Caturano Ancora Caturano che si invola Caturano Ancora Lecce pericolosissimo Dentro l'area di rigore Cosenza ma sono troppi D'accordo come hanno gestito questa situazione Ancora Pacilli doppio dribbling Ancora Pacilli mette in mezzo Il gol del Lecce Arriva adesso il gol del Lecce Con Salvatore Caturano Che si riprende prepotentemente La vetta della classifica marcatori del giro del 5 E' il gol di Salvatore Caturano Che ne ha fatti 15 In campionato 16 Per questo